Quasi in risposta alle controverse performance dell'edizione di Sanremo, alvia proprio oggi, sempre a Sanremo, il primo festival della canzone cristiana. Si tratta di un progetto musicale promosso dalla diocesi di Ventimiglia Sanremo e dal comune della stessa città di Sanremo. A partecipare a questo festival anche una compagine biellese rappresentata appunto dalla band Shout Coinonia, promossa da padre Luca Arzentò. Ciao a tutti, sono padre Luca Arzentò, parroco di Strona, Veglio, Camandona e Callabiana e responsabile della Coinonia Giovanni Battista Oasi di Biella. Domani parteciperemo alla prima edizione del festival di musica cristiana a Sanremo. Andremo come band musicale Shout Coinonia, nome che significa shout, grida in inglese ed è la voce di Giovanni Battista che annuncia la venuta di Gesù. Anche noi canteremo per il Signore. Il brano che proporremo si chiama Per sempre canterò ed esprime la gioia di cantare al Signore, la gioia di lodarlo e di vivere con Lui e per Lui. Benediciamo il Signore per questo evento musicale attraverso il quale possiamo diffondere con gioia la Sua parola e il Suo Vangelo. Ciao, grazie che ci seguite.